buongiorno a tutti e bentornati su tuto irrigazione.it io sono federico e oggi parleremo delle centraline della Solem a batterie la versione BL-IP e vediamo la centralina per essere programmata ha bisogno di essere accoppiata alla sua applicazione la quale può essere scaricata da l'Apple Store oppure da Google Play una volta scaricato e sarà necessario registrarsi quindi registrare il proprio account con la propria email ok da quel momento in poi la centralina o le centraline che si accopieranno al programma all'applicazione saranno tutte dentro il registro interno dell'applicazione entrati nell'applicazione l'applicazione indicherà che non è associato nessun modulo quindi dovrò entrare dentro il mio account registrarmi mentre ho la password la mia mail e la password e poi cliccherò su accedi una volta entrati con il proprio account bisognerà prendere la batteria della nostra centralina batteria 9 volt e collegarla alla centralina una volta collegata la batteria andrò su aggiungi modulo selezionare il modello che ci interessa in questo caso blip bl sta per bluetooth ok cliccherò sopra e mi chiederà di verificare se il bluetooth è attivo ok io voglio utilizzare la centralina quindi abiliterò il bluetooth ok una volta fatto la centralina immediatamente verrà visualizzata sullo schermo seleziona il modulo blip io qui avrò un codice blip 4p con sulla destra la potenza di segnale clicco sopra l'immagine e la centralina e la centralina andrà in connessione con la nostra applicazione associo clicco sulla riga con scritto associare e da questo momento la centralina mi comparirà nella schermata principale con un'immagine marcata e sulla sinistra dell'immagine vedrò il simbolo del bluetooth clicco sopra l'immagine ed entrerò all'interno della programmazione della centralina vedrò l'immagine della centralina il segnale dell'intensità di segnale del bluetooth e lo stato della batteria in questo caso è completamente verde quindi così posso anche verificare lo stato di carica della nostra batteria in alto a destra c'è il simbolo della matita clicco sopra il simbolo della matita ed ho un resoconto generale della struttura della nostra centralina quindi avrò il codice della centralina il codice di sicurezza la posizione la posizione serve per registrare la centralina nella nostro nel nostro sistema perché una volta registrato l'account potrò anche accedere alla mia programmazione quindi ai miei dati tramite il portale mai solem da lì in questo caso essendo una centralina bluetooth non potrò gestire la centralina ma potrò modificare la programmazione quindi se la programmazione la modificherò su quella centralina in automatico verranno aggiornati i dati anche all'interno dell'applicazione da qui potrò scaricare direttamente nella centralina ok tipo di programmazione ok stazioni potrò decidere se ogni stazione può essere assegnata a un solo programma oppure la stessa centralina ti permette di associare la stazione a più programmi quindi il programma 1 può lavorare assieme alla stazione 1 la stazione 2 nei vari programmi ok fino a 12 programmi indicato quindi cosa vuol dire vuol dire che la zona 1 la posso abbinare al programma B e C ma anche la posso abbinare al programma C D e quindi non più solo esclusivamente al programma A ma la posso abbinare associare al programma B al programma C al programma D e via via fino a tutti i 12 programmi ovviamente non si devono sormontare altrimenti non ho un accurato funzionamento dell'impianto torno indietro ho il nome stazione posso dare un nome ad ogni singola stazione per poterla identificare cosa vuol dire identificare identificare vuol dire ricordarsi che la centralina la zona il settore 1 è a nord il settore 2 potrebbe essere a sud est ovest questo mi aiuta a definire meglio i tempi di irrigazione posso sostituire abbiamo detto il nome della zona posso chiamarla zona zona a nord ok confermo e mi compare zona a nord e così potrò cambiare tutte le altre zone poi ho il nome che ha SICO standard la versione del software posso recuperare i dati all'interno della centralina quindi della centralina farli arrivare al nostro modulo oppure cancellare tutti i dati ok tutti i dati di programmazione e delle durate posso creare un backup o ripristinare un eventuale backup salvato questa è la parte diciamo di interazione poi per tornare indietro devo andare in alto a sinistra torno indietro mi trovo nella schermata principale qui a questo punto potrò inviare guardando in basso a destra c'è un cerchio verde nella versione android è un cerchio piccolino ben marcato con una freccia ok nella versione invece di apple è un cerchio un po' più sempre verde un po' più morbido come colorazione questo cliccando lo invia i dati modificati del programma dell'applicazione direttamente nella centralina ok nella nostra schermata clicco e in questo momento dice in connessione si sta sincronizzando quello che è stato fatto all'interno della centralina cosa abbiamo sincronizzato abbiamo sincronizzato la posizione e abbiamo sincronizzato per esempio il nome di un settore quindi abbiamo detto guarda che settore 1 è la zona a nord ok nella schermata iniziale io vado posso andare sul comando manuale clicco sul comando manuale e qui mi troverò il numero di stazioni in base al modello questa versione è una versione a quattro zone quindi potrò andare sulla zona sul settore 1 clicco sul settore 1 e gli dico voglio che parta per un minuto ok tasto play che in basso e la centralina fa partire l'irrigazione per un minuto ok manualmente ok fatto questo lei si fermerà il tasto stop adesso la centralina si fermerà quindi posso fare partire tutte le stazioni quindi quindi posso decidere di far partire tutte le stazioni cioè singolarmente la zona 1, la zona 2, la zona 3, la zona 4 oppure se clicco su programma in questo caso parte la versione standard questa centralina parte già con 3 programmi e posso dirgli fammi partire il programma A o il programma B o il programma C clicco in alto con la freccia torno indietro e ritorno sempre nella nostra schermata principale posso andare in questo caso la seconda riga è programmi nella versione programmi ho la possibilità di verificare i nostri programmi programma A B e C entro nel programma A ok e mi chiede cliccando rimane cliccato ho il calendario posso decidere di programmare il ciclo personalizzato che se clicco sopra vuol dire che posso decidere i giorni della settimana a mio piacimento tutti i giorni oppure tolgo il giovedì ok torno indietro sempre sul calendario posso decidere di far andare i giorni pari i giorni disperi i giorni disperi senza il 31 oppure giorno periodico la programmazione periodica vuol dire che può partire ogni due giorni ogni tre giorni ogni quattro giorni e gli si può anche dare la data di partenza di riferimento del nostro periodo abbiamo il water budget funzione poco utilizzata ma molto importante o meglio molto comoda perché cosa cosa ci permette di fare se la lasciamo al 100% vuol dire che il nostro programmatore farà il 100% dei tempi impostati ok quindi cosa vuol dire se ogni zona lo stabilita che vada per 10 minuti in questo caso andrà per 10 minuti se invece voglio che aumenti in tutti i settori senza dove andare a lavorare su ogni singolo settore basta entrare qui gli dirò guarda water budget 110% confermo e mi troverò che farà il 110% cioè il 10% aumenterà tutti i tempi quindi se avrò quattro zone tutti i tempi di tutte e quattro le zone aumenteranno del 10% da 10 minuti 10% vuol dire che diventeranno tutte 11 minuti ok e il contrario se invece lo porto al 90% mi ridurate il 10% tutti i tempi senza dove andare continuamente a modificare tutti quanti i tempi quindi molto comodo parliamo se ho una centrina una zona non mi cambia niente ma comincio avere due zone quattro zone sei zone è più comodo fare questo tipo di operazione posso andare sul calendario e l'orario di partenza potrò aggiungere fino a 8 partenze ok nei tre programmi se invece ho la necessità di avere più programmi dovrò tornare indietro nella schermata principale nella nostra bella matita cliccherò sulla matita e andrò ritornerò sulla riga dove c'è scritto tipo di programmazione stazioni quindi andrò nella seconda seconda soluzione che è una soluzione che può aggiungere fino a 12 programmi ok una volta selezionata cliccherò il tasto in verde in basso di inviare questa funzione alla nostra centralina e la centralina in cui da questo momento in poi ti permetterà di fare la programmazione con più di tre programmi per verificare tornerò indietro andrò su programmi e mi comparirà in alto a destra un più ok quindi questo più cosa ci permette di fare ci permette di aggiungere programma 1 programma 2 ok programma 3 come era indicato prima cioè fino a 12 programmi in entrambi i casi avrò la possibilità di decidere la durata durata della nostra zona nord che avevamo indicato nel settore della zona 2 della zona 3 della zona 4 ci dobbiamo ricordare che la programmazione è una programmazione se non gestita con i programmi come prima abbiamo parlato programmazione a cascata cioè cosa vuol dire se io gli dico programma 1 programma a l'orario di partenza mi parte a luna ok se ho abbinato tutti i settori al programma 1 quindi al programma a questo caso il programma a farà partire la zona 1 per 10 minuti finiti i 10 minuti si chiuderà partirà la zona 2 finiti i 10 minuti partirà la zona 3 e finirà concludere con la zona 4 quindi è un ciclo ok un ciclo di programmazione se invece ho abbinato il settore gli altri settori sugli altri programmi eseguiranno i programmi in base alle impostazioni dei tempi ok come ultima funzione generale al menu principale abbiamo la possibilità di fare on off la centralina possiamo cliccare su off e la centralina ci chiederà vuoi un off permanente o vuoi che la spegniamo per un paio di giorni questo cosa serve serve per qualche situazione particolare se voglio gestirla manualmente manualmente un temporale manualmente un lavoro in cantiere qualsiasi cosa posso dirgli al massimo per 15 giorni quindi rimane centralina spenta per 15 giorni dopodiché puoi ricominciare con la programmazione fatta in questo caso decido di mettere off oppure ritorno in on ok clicco sulla freccia torna indietro e ritornerò nella schermata principale ed eccoci qua allora la nostra centralina è una centralina molto affidabile perché non ha nessun tasto esterno che nei vari modelli nel tempo anche di altre aziende hanno dimostrato di essere uno dei principali punti deboli di questa tipologia il secondo elemento di forza di questa centralina è il fatto che lei è completamente resinata non è chiusa con una guarnizione per renderle ip68 è una centralina ip68 completamente resinata ok quindi vuol dire che non si presentano le condense perché anche questo è un altro problema che si è riscontrato negli anni e quindi un punto debole per tutte le centraline a batteria questo questo modello permette di montare un sensore pioggia si taglia il filo giallo e si collegano i due fili del sensore pioggia ok la versione questa versione è una versione a quattro zone quindi come sarà collegata il filo nero verrà collegato sul comune quindi tutti i solenoidi per esempio i rainbird che hanno il rosso e nero hanno il filo nero come comune gli altri rossi sono tutti dei fili che servono per la zona quindi per l'altro filo rosso che sono dei nostri solenoidi tutti i fili neri vanno in comune e l'altro il segnale per ultimo questa versione ha anche l'arancione l'arancione è un cavo che serve per il comando pompa cioè esiste un relais che abbinato a questa centralina permette di far funzionare una pompa in due venti quindi la bobina del relay verrà solicitato da questa centralina ok e lei farà partire la nostra pompa elettropompa importante quando non vengono usati i fili ok non vengono utilizzati il comando pompa oppure abbiamo tre elettrovalve quindi mi troverò avere un cavo libero dovrò comunque usare il nostro connettore in dotazione e infilarlo dentro per isolare il nostro cavo dall'umidità perché negli anni su altri modelli è stato riscontrato non della sole ma su altre centraline sempre a batterie molto protette quindi reginate e tutto è stato riscontrato che l'umidità è risalita all'interno del cavo ed è entrata all'interno della centralina ok per evitare questo basta solo sigillare e chiudere con il suo connettore in dotazione si chiude e quindi si isola la centralina dunque questo è un bel prodotto un prodotto da pollice verso l'alto decisamente quindi ricordati di iscriviti al mio canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità che ci sono nel settore questa è una centralina che non è nuovissima che è presente nel mercato già da un paio d'anni però sta dimostrando la sua resistenza e la sua affidabilità a tutti quanti i suoi competitor ti aspetto per il prossimo video a presto ciao 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 ciao